Benvenuti all'oroscopo di oggi, 14 settembre. Scopriamo insieme cosa riservano le stelle per voi. Pronti a conoscere il vostro destino? Ariete. L'amore non è sempre la chiave per rendere perfetta una giornata, soprattutto quando si tratta di relazioni con la famiglia acquisita. A volte, prendersi una pausa dal partner e dall'ambiente che circonda può essere benefico. Cercate di concentrarvi su voi stessi e su come fare per ristabilire l'armonia nella coppia. Se siete single, potreste sentirvi trattenuti da qualcosa, con un senso di incertezza che vi porterà ad avere sbalzi d'umore. Questa tensione interiore potrebbe indurre anche a prendere decisioni drastiche, ma fate attenzione, perché tali scelte potrebbero non portare i risultati desiderati. Nel lavoro, anche se il desiderio di intraprendere una carriera indipendente è comprensibile, è importante considerare anche gli ostacoli che potrebbero sorgere. Eventuali nuovi impegni richiederanno molto più tempo. C'è necessità di affrontare alcune questioni rimaste in sospeso. Sarà importante mantenere la calma, evitando discussioni inutili, specialmente in famiglia. Sul lavoro potrebbero esserci nuove opportunità, ma richiedono una valutazione attenta. L'amore vi offre momenti di serenità, approfittatene per chiarire eventuali malintesi. La fortuna sembra sorridervi ma non esagerate con le spese. Guadate avanti con fiducia e senza rimpiangere il passato. Toro Dovete affrontare alcune scelte importanti, specialmente sul lavoro. La situazione economica potrebbe richiedere un po' di attenzione in più. In amore non fatevi prendere dall'ansia, i sentimenti si stabilizzeranno presto. Le relazioni interpersonali, soprattutto quelle familiari, potranno migliorare con il dialogo. La vostra determinazione vi aiuterà a superare eventuali difficoltà. Prendetevi un momento per riflettere sui prossimi passi. È un periodo di grande gioia, con il partner regnerà una perfetta armonia, condividerete gli stessi desideri e tempistiche. Sabato quindi donerà una profonda sensazione di sicurezza e serenità per il futuro. Se siete singole alla ricerca di un amore autentico, questo è un momento favorevole, le possibilità di incontrare qualcuno di speciale saranno elevate. Non esitate a lasciarvi trasportare dai sentimenti, perché l'affinità e la complicità emotiva raggiungeranno livelli inaspettati. Anche sul fronte finanziario sono in arrivo ottime notizie. Nuove opportunità economiche offriranno un trampolino ideale per realizzare finalmente quel progetto imprenditoriale che sognate da tempo. Gemelli Riuscirete finalmente a catturare l'attenzione del partner grazie all'atteggiamento positivo e intraprendente. Per le coppie che stanno affrontando un periodo difficile, si preannunciano momenti di serenità e riconciliazione, offrendovi l'opportunità di risolvere le tensioni e ritrovare l'equilibrio. Se siete single, nuove opportunità sentimentali e momenti di divertimento sono all'orizzonte. Questo potrebbe essere il momento ideale per canalizzare l'energia in attività come un corso di yoga, perfetto per risvegliare i sensi e ristabilire l'equilibrio interiore. Nel lavoro, una nuova opportunità di carriera potrebbe presentarsi presto. Grazie agli attuali influssi planetari, scoprirete nuovi percorsi verso la realizzazione professionale, aprendovi la strada a un futuro ricco di successi. In queste 24 ore la vostra mente sarà particolarmente attiva e desiderosa di nuove esperienze. Sul lavoro potrebbero emergere delle novità che vi metteranno alla prova, anche se saprete affrontarle con intelligenza. In amore è il momento di essere più aperti e onesti con il partner. Le stelle consigliano di non prendere decisioni affrettate. La vostra creatività sarà un grande vantaggio, utilizzatela per risolvere eventuali problemi. Prendetevi del tempo per rilassarvi. Cancro Vi sentirete pieni di energia e pronti a dare il massimo nella relazione. Così un gesto generoso, fatto con discrezione e senza eccessiva ostentazione, sarà notato e apprezzato dall'amato barra A. Le dimostrazioni d'affetto che seguiranno, saranno particolarmente intense, quindi non esitate a esprimere ogni sentimento provato, senza timori. In arrivo una bella novità a metà pomeriggio. Se siete singole cercate una persona capace di affascinarvi con conversazioni interessanti, che sia concreta quando arriverà il momento di agire e che vi ami per quello che siete. Presto avrete l'opportunità di trovarla. Sul fronte lavorativo, gli impegni sembrano meno gravosi del solito. Evitate di sprecare energie con colleghi chiacchieroni ma sfruttate questa giornata per concentrarvi sui progetti che avete in mente per il futuro. Sarà una giornata dedicata alla riflessione, specialmente riguardo ai rapporti personali. Sentirete il bisogno di chiarezza e stabilità, in ogni caso evitate di forzare le cose. In ambito lavorativo potrebbero esserci alcune sfide da superare, ma niente che non possiate gestire con un po' di organizzazione. La vostra sensibilità sarà un'arma a doppio taglio, usatela con saggezza. Leone. Questo sabato vi sentirete quasi inaccessibili, come se foste distanti e difficili da avvicinare. Il partner potrebbe trovare complicato accostarsi a voi, specialmente se avesse un po' il cuore in subuglio. Sarà fondamentale guardare oltre, accettando la situazione con pazienza, evitate di lasciarvi sopraffare dalle emozioni. Cercate invece di affrontare ogni problema insieme, lavorando per risolverlo in modo costruttivo. Se siete single, siate più comprensivi verso situazioni difficili da accettare. La vostra naturale inclinazione a creare distanze potrebbe allontanare chi vorrebbe conoscervi meglio. Sul fronte lavorativo, l'incertezza richiederà determinazione e forza di volontà. Mantenere l'attuale posizione implicherà il fatto di doversi difendere con forza. Giornata caratterizzata da alti e bassi, in amore ci saranno sorprese positive ma anche momenti di tensione quindi tenete a bada l'umore. Sul lavoro, invece, dovrete impegnarvi di più per ottenere i risultati desideri. La fortuna è dalla vostra parte ma occhio alle finanze. L'energia è al massimo, sfruttatela per portare avanti progetti personali importanti. È ora di prendere decisioni coraggiose e pianificare il futuro. Vergine. Le stelle questo inizio weekend saranno dalla vostra parte, infondendo intraprendenza, sensualità e una passione travolgente. Anche se inizialmente potreste sentirvi trattenuti, presto riuscirete a liberarvi e a sfruttare appieno questa energia, vivendo momenti intensi e gratificanti con chi amate. Se siete single, il peggio è ormai alle spalle, è il momento di lasciar andare la tristezza e aprirsi a nuove opportunità. Dopo una delusione, si stanno aprendo prospettive interessanti e promettenti che vi riempiranno il cuore di gioia. Sul fronte lavorativo, le cose stanno andando a gonfie vele. Riflettendo sulle ultime settimane, non c'è nulla di cui lamentarsi, tutto procederà nella giusta direzione. Vi sentite un po' destabilizzati ma dietro l'angolo ci sono sorprese inaspettate. Il lavoro procede bene grazie alla precisione e all'attenzione ai dettagli, continuate così e vi toglierete belle soddisfazioni. Le finanze sono stabili, siate prudenti nelle spese. In amore vi aspettano cambiamenti significativi, siate flessibili e pronti ad adattarvi. Non trascurate il riposo e la salute mentale. Potreste anche ricevere riconoscimenti per i vostri sforzi recenti. Bilancia L'oroscopo prevede un sabato discretamente positivo, anche se non sarà esente da frangenti impegnativi. In amore, è tempo di ravvivare la scintilla della passione, non date per scontato chi vi sta accanto, ma dedicate più tempo a gesti d'affetto e piccole attenzioni che renderanno felice voi e il partner sorprendete, rendete ogni incontro speciale. Se siete single, preparatevi a brillare. Gli astri vi conferiranno un carisma magnetico che non passerà certo inosservato. Avrete la capacità di affascinare chi, finora, non vi aveva notato, e con un semplice sorriso potrete conquistare nuovi cuori. Sul piano lavorativo, la sensazione che il denaro non basti mai si farà sentire. Questo potrebbe spingere a cercare qualche occupazione extra. Non scoraggiatevi, organizzatevi e pianificate bene ogni impegno, vedrete che gli sforzi porteranno frutti. Potreste sentirvi particolarmente energici e desiderosi di fare qualcosa di diverso. Il lavoro richiede attenzione ma ci saranno gratificazioni in arrivo. In amore potreste avere una giornata ricca di emozioni intense. Le relazioni familiari richiedono un po' di pazienza, evitate discussioni inutili. È un buon momento per investire nel vostro benessere fisico. Scorpione Sabato potrebbe rivelarsi come una giornata non particolarmente brillante. La stanchezza accumulata potrebbe appesantire il vostro umore e far emergere qualche attrito in amore. Evitate discussioni inutili con il partner, poiché in questo momento rischierebbero solo di peggiorare la situazione. Meglio rimandare le conversazioni delicate a un giorno più sereno. Se siete single, questo sabato sarà l'occasione perfetta per concedersi del meritato relax. Non cercate attivamente nuove relazioni o conquiste, ma piuttosto rigeneratevi con attività tranquille. Dal punto di vista professionale, le decisioni importanti andrebbero rimandate. È il momento di pretendere rispetto, soprattutto da chi fino ad ora vi ha sottovalutato. Questa giornata vi chiede di essere pratici e concreti, soprattutto nelle questioni di lavoro. Sarà importante mantenere la calma di fronte a eventuali imprevisti. In amore potrebbe essere il momento giusto per chiarire alcune incomprensioni. Le stelle vi invitano a non lasciarvi sopraffare dalle preoccupazioni. Le relazioni interpersonali saranno al centro dell'attenzione, date spazio all'ascolto. Non trascurate il benessere fisico e mentale. Sagittario Il penultimo giorno di questa settimana sarà da segnare sul calendario, grazie a un equilibrio quasi perfetto tra emozioni e situazioni fortunate. In amore, venere sarà al vostro fianco, amplificando i momenti di passione e di tenerezza. Alcuni di voi potrebbero essere tentati nel cercare nuove emozioni, magari anche fuori dell'ambito di coppia. Riflettete bene prima di mettere a rischio una relazione che funziona. Per i single, sarà una giornata all'insegna della seduzione. Vi sentirete irresistibili e pronti a vivere emozioni romantiche. Le stelle vi daranno la capacità di esprimere i sentimenti più profondi, trovando le parole giuste per conquistare chi vi interessa. Nel lavoro, la giornata scorrerà senza intoppi, a volte la routine è la miglior compagnia. Apprezzate la stabilità, sapendo che c'è chi affronta situazioni ben più complicate. La giornata si presenta ricca di opportunità, specialmente in ambito lavorativo. Sfruttate il momento per portare avanti i vostri progetti ma evitate di fare il passo più lungo della gamba. Non trascurate la vostra salute, è il momento di riprendere alcune buone abitudini. La fortuna sarà dalla vostra parte, ma non siate imprudenti. Capricorno La giornata di sabato si prospetta tranquilla e serena quanto basta, caratterizzata da una costante sensazione di stabilità. In campo sentimentale, vivrete con semplicità la giornata, cercando di ridurre al minimo gli sbalzi di umore. Sarà fondamentale mantenere la calma e cercare di essere presenti per il partner. Se siete single, non rimanete a casa. Uscite, incontrate amici e lasciatevi trasportare dagli eventi della serata, un incontro casuale potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto interessante. Per quanto riguarda il lavoro, nel caso vi fossero piccoli contrattempi quotidiani, sappiate che non turberanno troppo il periodo. Intanto, evitate di farvi coinvolgere in inutili tensioni. Rilassatevi, godetevi il momento e guardate al futuro con ottimismo. State avvertendo il bisogno di mettere ordine nella vostra vita, specialmente sul fronte lavorativo. Sarà importante stabilire delle priorità e non lasciare nulla al caso. In amore, la situazione potrebbe richiedere un po' di pazienza, non abbiate fretta di risolvere tutto subito. Le relazioni familiari saranno positive, soprattutto se mostrerete comprensione e apertura. Fate attenzione alla gestione delle finanze, evitate spese impulsive. Acquario Primi in classifica La giornata di avvio del weekend inizierà con grande energia, grazie alla luna nel segno, quasi come un'esplosione di positività. La musa dei poeti illuminerà il percorso quotidiano, portando risposte chiare a domande che da tempo vi attanagliano. In amore, sarete in grado di vedere con maggiore lucidità chi rappresenta davvero una persona importante per voi. Capirete quanto vale il legame che avete costruito e sarete pronti a rafforzarlo. Per i single, la serata si prospetta emozionante, con la possibilità di vivere incontri travolgenti. Le stelle vi renderanno carismatici e pronti a brillare in ogni situazione sociale. Nel lavoro, riuscirete a mostrare la vostra affidabilità, guadagnando la stima di colleghi e superiori. Grazie alla vostra disponibilità e capacità di superare ogni difficoltà, il periodo non riserverà alcuna sorpresa negativa. Giornata interessante per fare nuovi incontri e stringere relazioni utili per il futuro. Il lavoro richiederà attenzione ma si intravedono delle buone opportunità all'orizzonte. In amore cercate di non essere troppo distaccati, il partner potrebbe sentirsi trascurato. Le stelle vi invitano a trovare un equilibrio migliore tra vita personale e lavorativa. Pesci In programma la presenza di una giornata vincente, sotto molti punti di vista. In amore, gli astri vi sosterranno a piene mani, infondendo calore ed entusiasmo. Grazie all'ottimo umore vi renderete affettuosi e premurosi nei confronti della persona amata. I momenti di tenerezza non mancheranno e vi sentirete in sintonia con il partner in ogni momento. Per chi fosse ancora in cerca dell'anima gemella, questo sabato potrebbe riservare piacevoli sorprese. Tuttavia, sarà importante andare oltre l'attrazione fisica e costruire un dialogo profondo e sincero. Sul lavoro, qualcuno prossimamente vi guiderà verso scelte sagge. Le intuizioni non mancheranno, quindi lasciatevi trasportare dal vostro istinto e dalla saggezza che gli astri vi doneranno. Giornata di riflessione e introspezione in cui sentirete il bisogno di fare il punto della situazione, specialmente in amore, cercate di non farvi sopraffare dai dubbi, il dialogo sarà la chiave per risolvere eventuali tensioni. Il lavoro procede senza troppi intoppi anche se richiederà comunque impegno e attenzione. Non fatevi scoraggiare dalle difficoltà, tutto si risolverà con pazienza. Dedicate del tempo a voi stessi e al vostro benessere emotivo. Grazie a tutti.